Oltre un milione i toscani vaccinati, il traguardo raggiunto la scorsa settimana, dose somministrata alla quasi totalità degli ultraottantenni, ma le opposizioni chiedono l'avvio della Commissione per monitorare l'andamento della campagna. Fidi Toscana diventerà una società in house dibattito sulla trasformazione della società di intermediazione finanziaria regionale proposta dall'assessore Leonardo Marras. Buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento con Monitor Regione. Oltre un milione di toscani sono stati sottoposti a vaccinazione in questi primi mesi di campagna vaccinale. Il dato presentato in Commissione Sanità è stato oggetto di discussione a margine dell'ultimo consiglio a Palazzo del Pegaso. La Regione considera inoltre raggiunto l'obiettivo della vaccinazione pressoché totale degli ultraottantenni. Per l'opposizione in realtà ci sono forti ritardi nella campagna vaccinale ed è necessario rendere operativa subito la Commissione speciale di monitoraggio delle vaccinazioni. Sentiamo le interviste. Ad iniziare dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. È bello ritrovarsi tutti insieme, vale per un'assemblea legislativa come vale anche per la vita di ogni giorno. È bello rivedere le saracinesche rialzate, le persone che si rincontrano nei cinema, nei musei, nei teatri, i bar, i ristoranti all'aperto. Insomma, la voglia di una ripartenza vera. Noi ci auguriamo che davvero non si chiudano più queste saracinesche. Noi faremo la nostra parte, dobbiamo andare veloci con la campagna di vaccinazione. Chiediamo ai cittadini però di continuare a fare altrettanto. Sappiamo che ormai è più di un anno che gli chiediamo sforzi e sacrifici, ma solo se ognuno di noi farà la sua parte. Distanziamento, mascherine, lavarsi le mani. Il virus è sempre tra di noi. I numeri oggi sono in calo, 550 positivi, però non è finita. Serve uno sforzo collettivo, serve uno sforzo di grande partecipazione. Ognuno di noi può dare il suo contributo. Noi, come ho detto, dobbiamo accelerare sulla campagna vaccinale. Abbiamo recuperato molto bene quel ritardo iniziale sugli over 80. Evidentemente l'idea di vaccinare con i medici di famiglia era un'idea di prossimità per arrivare a più persone possibili e anche se ci abbiamo messo qualche settimana in più, purtroppo, oggi vediamo che quella risposta esiste. Stiamo accelerando tra i 70 e gli 80 anni. Ora però, e questo l'ho chiesto con forza al Presidente Gianni, bisogna fare uno scatto anche per gli ultrafragili. I vaccini sono arrivati, devono essere una nostra priorità per completare anche loro. Gliel'ho chiesto con forza e credo che questa sia la strada da perseguire. E poi speriamo davvero che nel mese di maggio si possa aprire anche ai sessantenni e poi ancora in avanti per poter dare a tutti la possibilità di accedere, senza click day, che insomma mettono un po' di ansia e di preoccupazione, ma che abbiamo dovuto usare quando i vaccini erano pochi. Il traguardo degli over 80 è stato raggiunto, mi pare un risultato assolutamente importante grazie anche all'organizzazione della macchina con tutti i medici di medicina generale. Procedono anche le alti livelli di vaccinazione, c'è però da recuperare in maniera forte, da dare un imprinting forte sulla vaccinazione degli estremamente vulnerabili, che devono essere conclusi i più velocemente possibili, e dei caregiver. Noi giovedì porteremo una risoluzione in commissione, in questa risoluzione chiederemo alla Giunta di andare a chiudere il più velocemente possibile, mettere tutte le dosi di Pfizer che sono libere sui estremamente fragili e vaccinare tutti i caregiver. Questi sono la priorità assoluta della Toscana in questi giorni, e noi chiediamo formalmente alla Giunta giovedì di fare questo scatto, che è assolutamente necessario, perché è chiaro a tutti che ormai le quantità anche di estremamente fragili a vaccinare non sono altissime, ma è importante, è un segno di civiltà, chiudere velocemente questa vaccinazione. Sui vaccini chiediamo un'accelerazione, guardate un tema su tutti, non solo gli over 80, gli over 70, ma i super fragili e i caregiver. Ecco, questi due, super fragili da un lato e i caregiver, stanno ancora aspettando le dosi vaccinali. Il Consiglio regionale si era espresso in maniera molto chiara, vaccinare i super fragili anche coloro che sono nel follow up della chemioterapia, cioè che non hanno finito la chemioterapia soltanto nei sei mesi. Noi stiamo ancora aspettando che quell'atto di indirizzo del Consiglio regionale diventi realtà, tutto questo è inaccettabile. Se l'Assemblea legislativa regionale ha un senso e si dà un indirizzo, l'assessore quell'indirizzo lo deve rispettare. La nostra pazienza sta arrivando al limite. Se l'assessore non farà un atto di indirizzo comunicando alle AS competenti, ai reparti competenti che hanno in cura, i malati oncologici, nell'arco dei cinque anni di follow up, li devono chiamare subito ad essere vaccinati, faremo una protesta eclatante, perché questo è un segno di civiltà nei confronti delle tante persone che hanno sofferto, che hanno fatto chemioterapia, che hanno fatto radioterapia, che hanno fatto le loro cure, che sono usciti dal percorso ed è anche un atto di rispetto nei confronti delle tante persone che non ce l'hanno fatta. È inaccettabile che in regione toscana i malati oncologici non vengano vaccinati. Ma si deve fare ancora meglio? Qualcosa è cambiato? Bene che siano accolte le nostre proposte. Avevamo chiesto di cambiare, di inserire anche dei numeri verdi, far licitare le prenotazioni, avere un seguimento diretto. Avevamo chiesto l'utilizzo degli hub, l'intervento della protezione civile. Avevamo chiesto alle AS di accompagnare il percorso dei medici di base. Quindi tutte questioni che a mio avviso hanno migliorato fondamentalmente la campagna di vaccinazione serve fare ancora meglio. All'inizio sono stati commessi degli errori. Forse anche le nostre critiche e le nostre proposte hanno aiutato la regione toscana a migliorare. Il trend lo vedo positivo e quindi mi auguro che nei mesi di maggio, giugno e luglio si possa fare bene, si possa fare meglio, più veloce e si possa quanto prima portare la Toscana fuori dal momento in cui un'immunità di Grecia possa veramente consentire una ripartenza reale. Quindi ci giochiamo tutto in questi tre mesi e credo che la partenza della Commissione Speciale, anche il solo annuncio, tra virgolette, la nostra presenza all'interno sia stata di stimolo anche per migliorare la campagna di vaccinazione in Toscana. I vaccini siamo a un punto rispetto al quale la Giunta sconta lo stesso difetto che ha scontato in maniera costante in queste settimane e in questi mesi. Non dice le cose chiaramente come stanno. Di vaccini ne è arrivati all'incirca questa settimana lo stesso numero di quelli che sono arrivati nelle settimane precedenti, con la differenza che da questa settimana è iniziato il secondo giro, ovvero la seconda somministrazione di tutti quei vaccini che prevedono la somministrazione di due dosi. Quindi è evidente che si arriva allo stesso numero, ma una buona parte di quel numero venne utilizzato come seconda dose, diminuisce il numero delle prime dosi, cioè dei nuovi vaccinati. Allora queste cose qui vanno spiegate chiaramente ai toscani, perché ora noi siamo nuovamente assaliti, noi sia in minoranza, vi immagino anche che stia in maggioranza, da persone che dicono sono chiuse le prenotazioni, non ci si riesce a vaccinare. Era una cosa ovvia che io avevo già denunciato nei giorni scorsi, la scorsa settimana, perché evidentemente essendo iniziato il secondo giro diminuisce le prime vaccinazioni. Oggi ho avuto delle foto del Mandela Forum che è completamente vuoto. Vuoto perché? Perché abbiamo voluto fare un po' di show e quindi giorno di Pasqua e Pasquetta abbiamo vaccinato, hanno vaccinato fino alla sera alle 11, in realtà poi ora per due giorni o tre il Mandela ha circa 3 mila euro al giorno di affitto è vuoto e non c'è nessuno. Perché? Perché non ci sono i vaccini, non ci sono i vaccini perché non c'è una programmazione. Ora capisco l'assessore che giustamente dice che ce le devono mandare. In realtà noi dovremmo cercare di forzare la mano perché la programmazione secondo il decreto ministeriale alla Toscana gli dovranno toccare di più dei vaccini che sono arrivati. Per cui perché non sono arrivati questi vaccini? È vero che AstraZeneca vogliono fargli un procedimento diciamo legale per il non arrivo dei vaccini. Il fatto è però che questa è la situazione di oggi. Gente che sta di fuori in fila con un assembramento perché vuole essere vaccinata, altre persone che non riescono ad essere vaccinate pur avendone completamente i diritti. Per cui io credo che la Toscana non abbia fatto una bella figura. Da quello che risulta ci sono ancora molte persone che devono essere contattate dalle ASL e il fatto che comunque si sia riusciti a completare una buona parte non nasconde comunque che questo è avvenuto con un gravissimo ritardo e con altrettanto grave ritardo si sta attivando la commissione speciale per quanto riguarda i vaccini. Una volontà secondo me evidente della regione toscana di non voler fare un monitoraggio, un'analisi di ciò che è andato storto per cercare di riparare. Quindi un mancato riconoscimento di tanti errori che sono stati fatti e di cui lo ripeto non si può attribuire esclusivamente la responsabilità a minore quantità arrivate perché il fatto che fossero state distribuite per categorie che non avevano ad esempio le necessità o i bisogni di immediatezza di altre, l'utilizzo dell'Opfizer rispetto agli AstraZeneca per alcune categorie di amministrativi e molti altri errori non sono giustificabili e continuano a inficiare il risultato di questa campagna vaccinale insieme all'utilizzo della piattaforma e con tutti i problemi di prenotazione che ci sono stati. Cambiamo argomento e parliamo di Fidi Toscana, la società di intermediazione finanziaria della regione. C'è la proposta da parte dell'assessore all'economia Leonardo Marras di farla diventare una società in house per poterla gestire in maniera più elastica e più vicina ai bisogni del territorio. È stata approvata anche una risoluzione a maggioranza che invita la Giunta ad esplorare questa possibilità. Sentiamo le interviste, i pareri dei gruppi politici e ad iniziare proprio dal Partito Democratico e dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Sono le linee giuste, occorre veramente fare una riflessione attenta partendo da quello che Fidi Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle con risposte anche molto importanti per cercare di avere uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro definendone quale sarà la natura, quale sarà la dotazione. Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal Consiglio di amministrazione di Fidi Toscana attuale, quelle che possono venire dai soggetti istituzionali, dai soggetti creditizi, dai soggetti sociali o economici. Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Nei prossimi anni arriveranno anche risorse importanti dal PNNR, arriveranno dai fondi europei, dai fondi nazionali e credo che questo sarà ovviamente l'aspetto molto più importante, ma avere uno strumento di intermediazione sarà altrettanto fondamentale per cui questo percorso si dovrà concludere con la decisione che sarà sicuramente la più consapevole e sarà la più adeguata tenendo conto anche delle esperienze che altre regioni hanno fatto attorno a noi. Allora l'assessore Marras ha ripercorso velocemente il passato di Fidi Toscana perché non è un passato esaltante, soprattutto negli anni a cavallo fra il 2009 e il 2013, quando anche Banca d'Italia è intervenuta pesantemente per riprendere la finanziaria regionale. È ovvio che l'ultimo Consiglio d'amministrazione ha lavorato soprattutto per recuperare le perdite che si erano accumulate negli anni scorsi e gli ultimi due bilanci hanno chiuso in positivo, ma questo non può più essere sufficiente. Per questo è partita la riflessione sul futuro della finanziaria regionale, una finanziaria che dia sostegno ai cittadini e alle imprese toscane e per farlo naturalmente dobbiamo capire quale modello seguire, perché in realtà mezza Italia si è già mossa, dalla Lombardia alla Liguria, dal Lazio alla Puglia, tutte le altre regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come i mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio, mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare le partecipazioni private che sono rimaste, cioè le due grandi banche, Monte dei Paschi e Intesa San Paolo più un'altra serie di istituti di credito con percentuali molto basse di partecipazione, dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78 che facevano parte del capitale di Fidi Toscana negli ultimi due anni sono usciti dal patrimonio, o meglio, scusate, dal capitale sociale dell'azienda. In questo caso rimettendo, come abbiamo detto a Gianni, nelle mani del governatore e della politica regionale una grande responsabilità, perché gli enti locali sono i primi rappresentanti dei cittadini e delle imprese del nostro territorio e si aspettano che la regione sappia trovare uno strumento utile che con mezzi moderni sostenga l'economia locale. Deve cambiare, a mio avviso è terminato un percorso, serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del Governo anche per le risorse del Recovery Fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca ma magari ci sono le idee, quindi deve essere un soggetto finanziario che sia d'accollante da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo e dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare i finanziamenti comunitari e nazionali, quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta, che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto di fili Toscana e si possa andare verso un soggetto nuovo magari che sappia integrare la propria funzione anche con sviluppo Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.